Laurito provincia di Salerno, 15 luglio 2020, mi trovo qui in occasione della prima giornata dell'antica fiera della Maddalena, si è appena concluso un importante convegno dal titolo le filiere zootecniche locali tra innovazioni e tecniche e crisi economiche. Un convegno tematico della fiera stessa che tocca gli argomenti che sono connessi intimamente all'argomento fiera. Allora come dicevo prima durante il convegno è un'occasione importante quella che si presenta adesso per il territorio, un'occasione importante per la zootecnia locale. Una zootecnia che se non viene adeguatamente rinnovata a quelle che sono i canoni di un'attività agricola che va in linea a quelle che sono le nuove esigenze dei mercati rischia veramente di rimanere fuori da un circuito virtuoso che è quello che generano invece le agricolture di qualità e quindi le eccellenze. Abbiamo discusso della qualità dei prodotti zootecnici in relazione al sistema di allevamento e quindi all'alimentazione essenzialmente, al benessere minimale. La consapevolezza è quella che un prodotto ottenuto in queste condizioni ha delle qualità sensoriali, organolettiche e anche nutrizionali superiori e quindi il nostro progetto di due anni avrà l'obiettivo proprio con dieci aziende zootecniche del Cilento di andare a verificare, a dimostrare queste qualità superiori e a diffondere delle linee guida di disciplinare di produzione anche per tutte quante le aziende zootecniche presenti qui nel Cilento. Quindi un progetto che è di ricerca ma anche di diffusione dell'innovazione e quindi di formazione dei piccoli allevatori zootecnici. Questa sera abbiamo presentato un'idea progettuale che è stata finanziata e che abbiamo concepito durante la fira dell'anno scorso quando si è per una serie di coincidenze creata una convergenza tra allevatori, imprenditori, istituzioni, comunità montana e GAL-Casacastra. A settembre abbiamo presentato il progetto che ci è stato finanziato, un progetto di circa 300 mila euro che prevede un'attività di ricerca e di studio sul campo per 24 mesi che coinvolge tutti i comuni della comunità montana e del GAL. Il progetto prevede innanzitutto la costituzione della consulta degli allevatori come momento aggregativo di tutti gli allevatori della comunità montana e del GAL per un approccio combinato, misto, non il classico progetto di ricerca dove lavorano solamente gli steggisti o i borsisti ma un'attività sul campo fatta, come abbiamo spiegato, di una ricognizione di tutti gli allevamenti con un'analisi della qualità del latte, del formaggio e i campi di azione saranno essenzialmente due le matrici saranno essenzialmente due. Da un lato la ricerca genetica degli allevamenti con i protagonisti assoluti che saranno chiaramente bovini e caprini ma ci sta anche lo spazio per la ricerca per gli ovini e i suini ma questi saranno i due capisaldi dell'attività di ricerca e l'applicazione del metodo nobile del latte, quindi la filiera del metodo nobile del latte. La zootecnia come tale e come tutte le iniziative credo che vada innovata attraverso la ricerca scientifica attraverso un modo diverso di raggiungere il grande pubblico credo che la fiera della Maddalena che è una fiera storica possa rappresentare per l'intero territorio un punto di riferimento anche per la promozione dei prodotti di qualità che in questo territorio ci sono Stasera abbiamo parlato di uno dei progetti finanziati tra l'attività del GAL Casa Castra che è una misura di cooperazione in cui entrano vari attori, entra la ricerca, l'università entrano attori territoriali, istituzioni territoriali come la comunità montana in questo caso e soprattutto entrano i produttori. Grazie a tutti.